NIC Nick, il comando mi ha appena segnalato un furgone sospetto. Lo seguo, ok? D'accordo. D'accordo. Siamo risalzati. Gli uragani hanno un tempismo di merda. Vedo due edifici, non ti guardi. Ricorda cosa ha detto Dose, siamo in guerra, non perdiamoci in formalità. Questo posto sembra chiuso. Prova il sultato. Buona idea. Non ti muovere, sei in arresto. Sono in una fabbrica di tortilla, sembra tutto normale. Ok, controlla l'altro edificio. Ti fidi di Stoppard, se mi fido dello sbirro che ha preso i nostri soldi in cambio di protezione. Attenzione 13, hai un 1027 vicino. Cosa? Cosa? Cos'è stato? Non ti muovere, sei in arresto. Non va bene. Ehi, calmati, ok? Ok, amico. Ok, ok. Stratzo! 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 Sono un poliziotto e tu sei in arresto! Ehi! Sospetto fermato, centrale Lo prendiamo voi Sospetto fermato, scusate Lo vedo Forse si può entrare da quella porta Quando trovi standard Deve farlo parlare Se siamo fortunati si tradirà Ragazzi, la vostra erba non mi interessa Tanto tra due anni sarà legale Quello che voglio sapere è chi di voi ha preso i soldi di Nelson Ci ha promesso a noi quei soldi, stronzo Va bene, da ieri sono il vostro nuovo capo Sapete cosa significa? Cosa direste se avessi lavorato un caso e poi arrivasse uno stronzo e provasse a prendersi tutto il merito? Beh, direi... Parliamolo E quindi, parliamolo Che ne dite? Ha appena portato alcuni tizi di sotto Ok, seguilo Non possiamo restare tutta la parte È più sicuro qui che fuori Non sembra nemmeno la foccia di Nelson Ci ha messo settimane per imparare a imitare bene quella luce I primi tre giorni sembrava quella di James Mason Nessun waffle parla come James Mason E gliel'hanno detto anche in diversa persona A me piaceva Oh, capito Preferisci le frangole sui tuoi bambini Come si dice, i gusti sono gusti Devi seguire Stoddard dal piano di sotto Che succede sul red? Stanno parlando Non è esattamente il nostro miglior negozatore Codice 3, codice 3, agenti a terra Stoddard dal piano di sotto Mi ha messo settimane per imparare a imitare bene quella luce I primi tre giorni sembrava quella di James Mason Nessun waffle parla come James Mason Che l'hanno detto anche in diverse persone A me piaceva Oh, capisco Preferisci le frangole sui tuoi waffle Come si dice, i gusti sono gusti Devi seguire Stoddard dal piano di sotto Che succede, Sorrent? Stanno parlando Non è esattamente il nostro miglior negoziatore Non muoverti Va bene, va bene Ehi, ehi Che succede? Meccato! Agente a terra 1199 Un 2022 Un 2022 Un 2022 B preoccupắpare in Un 2022 Un 2022 Un 2018 Un 2022 Ci sono! Mi contro io! Chi è questo? Lo faccio fuori! Devi seguire Stoddard dal piano di sotto.